Ebbene, si perdono i pezzi per strada. La delibera del bilancio, insieme alle altre delibere progettiche, è arrivata incompleta. Si sono accorti che si erano dimenticati delle delibere, quindi la giunta marino è bloccata. Un percorso molto difficile, prima di tutto perché spesso, molto spesso, quasi sempre, la maggioranza non è in numero legale. Poi c'è stata una fortissima compressione dei tempi, quindi la discussione spesso è fatta in pochissimo tempo e soprattutto nessuno, della maggioranza, sembra essere interessato ad ascoltare. Tutto questo per arrivare in tempi rapidi ad un bilancio che comporta più tasse e meno servizi.